Ciao a tutti, siamo qui ad Arezzo da questa splendida piazza di persone che hanno deciso di aprire gli occhi per vedere cosa è successo sulle quattro banche e soprattutto su Banca Etruria, a ringraziare voi che in regione, in Consiglio regionale Toscana state facendo molto per portare la verità su quanto è successo sul Monte Paschi. Anche noi in Parlamento stiamo facendo il possibile, ad ogni commissione, in ufficio di presidenza chiediamo la possibilità che venga eseguita una commissione di inchiesta specifica per Monte Paschi ma il PD non ci ascolta mai e ci ostacola sempre. Dobbiamo fare assolutamente chiarezza su tutto, anche su aspetti molto tragici come ad esempio la morte di Davide Rossi. Tutti insieme possiamo veramente cercare di far aprire gli occhi a tantissime persone e soprattutto a far emergere la verità.